Con il referendum dello scorso giugno i cittadini sono stati chiamati ad esprimere un'opinione riguardo all'abrogazione dell'articolo 23 bis della legge 133 del 2008 sulla modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. La maggioranza dei voti fu favorevole, ma ora dopo l'approvazione del governo Berlusconi della legge di stabilità finanziaria 2012 del 12 novembre, il Comune di Torino sta andando incontro alla liberalizzazione delle aziende partecipate. Risale infatti al 23 novembre la decisione del Consiglio di trasferire alla FCT Holding SRL, finanziaria controllata dal Comune, il 100% delle quote delle partecipate, il 40% poi sarà venduto dalla stessa finanziaria ai privati. Nel corso della cinquantesima assemblea di Conf Servizi Piemonte, sindacato d'impresa per i servizi pubblici, si è discusso proprio dei progetti di trasformazione di alcune delle principali aziende pubbliche locali. Stiamo cercando come amministrazioni di capire in che modo applicare questi esiti referendari, stabilito che dopo il referendum comunque le manovre hanno previsto un parziale superamento degli esiti referendari. Per favorire lo sviluppo di società miste, ovvero con la cooperazione di pubblico e privato, diventa necessaria l'istituzione di incentivi che spingano imprenditori italiani ad avvicinarsi al progetto. Infatti, secondo il vice sindaco di Torino Tom De Alessandri, il rischio è che la scarsa competitività sul mercato dei servizi resistenti possa pregiudicare la qualità dell'offerta allontanando investitori seri. A testimonianza del buono stato di salute delle imprese pubbliche del nostro paese, durante il convegno sono stati presentati risultati economici e produttivi delle aziende e degli enti che gestiscono servizi di pubblica utilità, come acqua, gas, energia elettrica, igiene ambientale, trasporti locali. Secondo i dati raccolti da Conf Servizi, nel triennio 2008-2010 il valore della produzione a livello nazionale è cresciuto del 7%, mentre in Piemonte il dato supera il 10%. La nostra regione risulta sopra la media nazionale, anche per quanto riguarda il numero delle assunzioni negli ultimi tre anni, che aumentano del 6,74%. Il trend sia di occupazione e sia di fatturati è un trend che continua a crescere, le tariffe sono adeguatamente contenute, se parliamo delle tariffe dell'acqua, ma anche quelle di rifiuti e di altre attività.